Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 7 febbraio 2017 sul canale 17 di Fano TV Siamo qui tutte le mattine pronti per leggere i quotidiani Il resto del credino è il Corriere Adriatico, lo faremo anche questa mattina tra poco con il nostro touch screen Prima diamo l'ucchiata al calendario del giorno, vediamo il santo di oggi e poi le previsioni del tempo Oggi la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Anna Maria Adorni Il sole sorto alle 7.17, tramonterà alle 17.27, tutti i 17, tutti i 7 Allora cominciamo a vedere questo tempo per oggi Avremo un cielo inizialmente nuvoloso, in particolare nelle zone interne Con schiarite sempre più ampie già dalla mattinata e prevalenza di sereno nel pomeriggio Meno male perché ieri è una giornata davvero cupa Avremo ancora deboli, sparsi, precipitazioni interne ed occasionali lungo la fascia costiera Più insistenti al mattino, poi nel corso del pomeriggio si esauriranno questi fenomeni Limite delle nevicate attorno agli 800 metri Le temperature sono in diminuzione nei valori minimi Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 8 di febbraio Avremo un cielo da poco a parzialmente nuvoloso Con temperatura in diminuzione nei valori minimi Non pioverà, vedete in tutta la regione c'è soltanto un po' di nuvolosità Poi però, vedete, giovedì 9 febbraio il tempo peggiora E torna a peggiorare in maniera pesante Sia giovedì che venerdì avremo deboli, sparse precipitazioni al mattino Rovesci invece nel pomeriggio E anche nevicate che si attesteranno intorno agli 800 metri Poi per effetto delle temperature che giovedì comunque aumenteranno nei valori massimi Questo limite delle nevicate arriverà fino a 1500 metri nel corso del pomeriggio I venti saranno orientali Poi dicevamo, insomma, ancora tempo brutto per la giornata di venerdì Poi però c'è questa probabile rimonta del campo anticiclonico Conseguente tempo stabile per il fine settimana e l'inizio della prossima Considerato poi che a Fano qui c'è la prima sfilata del Carnevale di Fano Quindi per domenica dovrebbe essere comunque un tempo perlomeno senza pioggia Poi pretendere il sole potrebbe essere anche troppo Allora cominciamo a vedere adesso invece i giornali E andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino Allora per quanto riguarda la pagina del Carlino abbiamo il tema delle polveri sottili Quindi dell'inquinamento Ci sono stati già sei sforamenti Il Comune usa i panicelli caldi Benini dell'ARPAM dice bisogna incentivare i riscaldamenti a pompa di calore E dunque la centralina che appunto serve per monitorare la qualità dell'aria Soprattutto quella di via Montegrappa Ha concluso lo scorso anno con 33 sforamenti E a gennaio di quest'anno quel limite è già stato superato sei volte Da marzo la centralina in via Ottava Strada Bellocchi Si dovrebbe trasferire in via Papiria per spostarsi successivamente in via Inaudi Ora chiaramente via Papiria e via Inaudi sono due vie molto trafficate Quindi sarà interessante vedere anche quei dati Alla luce del fatto appunto che ci sono davvero tantissimi automobili in transito Le auto proibite sulle vie principali non solo Euro 2 ma anche Euro 3 e diesel Per quanto riguarda questa è la prima pagina del resto del Carlino di Fano Poi l'altra così hanno ucciso il Cantinone Il Cantinone è uno storico locale dove si mangiava fino a poco tempo fa Adesso perché così hanno ucciso il Cantinone? Perché su quel locale è calato il sipario Il legale dice nessuno ha voluto venirci incontro L'avvocato attacca la fondazione che è proprietaria del locale, dei muri Non credo che 500 euro in meno sconvolgessero i vincoli dell'ente di Carifano E dunque insomma questa è l'epilogo di questo storico locale a Fano Nella fotografia invece quando erano i tempi belli un concerto di musica portoghese appunto anni fa al Cantinone Tutta la vicenda è raccontata in questo articolo del resto del Carlino questa mattina Poi ancora un corso da Ciceroni per i commercianti Istruiti per dare indicazioni ai futuri clienti sull'arte cittadina E dunque la promozione della città parte anche dai commercianti e dagli operatori turistici C'è un'idea che ha dato vita a un progetto nuovo firmato dalla Proloco di Fano La pioggia di ieri ne è caduta tanta su tutta la regione Qui siamo sulla pagina ancora di Fano del resto del Carlino Guardate le fotografie innanzitutto Eccolo qua lo scenario, questo è il ponte Mimmo che è in totale stato di abbandono E invece a destra qui le strade allagate di Metauriglia Che obbligano i residenti ad uscire soltanto con le automobili Perché diversamente uno farebbe il bagno Segregati in casa a causa degli arragamenti Questo è il titolo Insorgono in Metauriglia il quartiere della Trave I residenti tutti i problemi segnalati da anni Ma nessuno ha fatto nulla Da via Fusaglia non è possibile che dopo 40 anni Questa zona resti al buio e con le buche A proposito di buio Ieri ci hanno segnalato Sono un paio di giorni che la luce, la corrente elettrica Va e viene in alcune zone compreso la nostra sede Dobbiamo fare i conti anche con il riavvio di decine e decine di computer Che nel nostro caso restano invece accesi per il funzionamento dell'emittente Insomma tutta la notte Quindi abbiamo voluto Insomma ce l'hanno segnalato più di una volta Insomma questi distacchi Questa luce che va e viene Adesso cercheremo di capire Ieri pare che sia andato tutto bene Però insomma ecco Questa è un po' la situazione Che riguarda un po' il nostro Il nostro territorio La parte diciamo Da Bellocchi, Rosciano Fino alla costa Allora Alloggio ha segnato Siamo sempre sul resto del Calino Questa volta la pagina di Fano e Valle del Cesano Allora da Monteporzio L'alloggio ha segnato la figlia del dottore Lucia Costantini è disposta a rinunciare L'annuncio del sindaco Breccia sul caso di Irina La sua condizione personale e familiare è mutata rispetto a quando presentò la domanda Dunque c'è questa notizia che avevamo dato qualche giorno fa Dove una casa popolare è stata data regolarmente Chiaramente alla figlia del dottore Mentre una mamma con credo due bambini Tre figli Era rimasta esclusa dalla graduatoria E adesso la buona notizia Se vogliamo che questo alloggio potrebbe finire appunto a questa mamma Che probabilmente ne ha più bisogno Montemaggiore invece ha presentato ricorso al TAR Dopo la fusione con Saltara e Serrungarina Si tratta di un pool di avvocati Quello a cui si è rivolto il comitato Montemaggiore resiste Per opporsi alla fusione che ha dato vita al neocomune Colli al Metauro Sancendo appunto la scomparsa come entità autonome di Montemaggiore, Saltara e Serrungarina Andiamo adesso sull'altra pagina ancora del resto del carino Da Sant'Angelo in Vado O meglio da Urbino Dove c'è il processo in corso sul caso di Ismaele Lulli Processo appunto a Urbino L'udienza del 15 sarà fatta regolarmente nella città ducale Il Tribunale di Pesaro è ancora chiuso dopo l'incendio Quasi due anni fa Il 19 luglio 2015 Il giovane di Sant'Angelo in Vado fu ucciso da due coetanei Questa è la pagina di Fossombrone Caglio Urbania E sempre su questa pagina l'altro titolo L'unione contro Cornettone C'è questa polemica tra il sindaco Bonci e l'assessore Cornettone Che non hanno tenuto fede a quanto da loro stessi promesso Andiamo sull'altro giornale Adesso apriamo il Corriere Adriatico Velocemente aeroporto Ecco il piano di conquista Eagle Aviation Academy delibera un doppio aumento di capitale Fino a 200 mila euro con sovrapprezzo di 300 mila Dunque il cerchio si chiude E il quadro è definito La società Eagle Aviation Academy Si prepara a conquistare la gestione dell'aeroporto di Fano Attraverso un doppio aumento di capitale Il primo incremento riservato ai soci Notaro Cecchini e la lettone Sia Wos Che è di proprietà di Gianluca Santorelli L'azienda di riga dell'ex responsabile di Fano Fortuna Ha rilevato la quota della società maltese Già della fiduciaria lituana Tutti i particolari di questa operazione Che è volta a reperire risorse per gli investimenti Da terzi previsti 400 mila euro E poi c'è l'intervista all'ex amministratore di Fano Fortuna Gianluca Santorelli che dice Ho toccato interessi economici e politici L'ex amministratore giustifica così la revoca dell'incarico E lui dice le relazioni erano precedenti Ancora dal Corriere Adriatico Colle al Metauro Appeso al Tar Attesa per il mese di marzo La risposta al ricorso presentato contro il Comune Il Comitato di Montemaggiore dice Speriamo ci sono falle infatti nella legge regionale Ceroni presenta un'interrogazione Il Senato diventerà un caso nazionale Tavuglia invece ecco i fondi per ampliare la scuola media Il Sindaco Paolucci dice Pressione fiscale e tariffe resteranno però invariate Sold out invece piace a Pesaro La cena anti Sanremo Tutto esaurito infatti all'Alexander Hotel Per iniziativa del Conte Albergatore Contro i Cachè del Festival Trovata pubblicitaria Dice lui il Conte Nanni Marcucci Pinoli La replico anche venerdì e sabato a prezzo pieno Vediamo così chi ci sta Lustrerò dice ancora il Conte Le scarpe ai clienti Un gesto che rimanda alla lavanda dei piedi E poi dice c'è un po' amareggiato C'è chi ha prenotato solo per il prezzo basso Fregandosene invece della mia protesta E lui dice peccato Protesta per il cachet di Carlo Conti Che sapete per insomma presentare Sanremo Prende qualcosa come 600 mila euro Ha ucciso il nonno a martellate Spietato un po' folle Per lui 14 anni Il 32enne Mattia Morganti Voleva i soldi e l'ha aggredito L'anziano è morto dopo 7 mesi di agonia Siamo a Corinaldo Ed è un fatto È un fatto che è accaduto nel 2015 La mattina dell'11 novembre 2015 In via Crocifissetto E questa è ormai la sentenza Insomma 14 anni Per il giudice Il giovane ha agito con crudeltà Ma gli riconoscono la semi-infermità mentale Da Urbino invece Le mostre non sfondano Ma il direttore della Galleria Nazionale delle Marche Ora rilancia Chiusa giochiamo Si sperava in più visite Palazzo Ducale spingerà adesso sull'acceleratore Poi la riforma Ersu spacca la maggioranza pesarese La mozione sul rinvio divide il PD E l'opposizione lancia accuse E ancora dalla Valle del Cesano Non aderiamo perché lo scopo è convertire i piccoli ospedali Antonio Baldelli sul progetto aree interne Dobbiamo difendere il nostro presidio E mi pare che ci siamo Per la segia stampa di stamattina Non c'è altro da aggiungere Se non questa pagina Attenzione che mi sono dimenticato Torniamo un attimo sul resto del Carlino Abbiamo ancora 30 secondi Per dirvi questa notizia che in realtà Prende due pagine Ed è una notizia interessante Il turismo è completamente terremotato Chiederemo i risarcimenti alla regione Amerigo Varotti Il direttore di Conf Turismo Che si dice molto preoccupato È andato ad una fiera molto importante Una fiera a Bruxelles E dice Si informano solo delle scosse E davvero siamo nei guai Mi è capitato l'altro giorno L'altro giorno ero in Umbria Mi è capitato di vedere Di essere testimone più o meno Di una cosa simile Però relativamente all'Umbria Dei turisti che erano in un santuario Nel santuario di Colle Valenza Erano lì al bar E dicevano Ma noi siamo venuti qua Pensavamo di trovare situazioni Un po' disastrate Pensavano che addirittura Fosse successo qualcosa anche a Colle Valenza In realtà dice Noi qui in Umbria Non abbiamo trovato nulla di particolare Nulla di strano Ecco questo per dire E poi Parlando dei giornalisti Insomma Ne hanno dette di cotte di crudo Contro i giornalisti Che fanno soltanto allarmismo Parlando appunto dell'Umbria Questo per dire Come la situazione In effetti è molto Molto difficile Ed è anche molto grave Che purtroppo Questa nostra regione Sta pagando Certamente abbiamo una zona Che è colpita dal terremoto Le immagini Non ce le inventiamo Sono quelle E sono registrate Però c'è tutta una parte C'è tutta una Per fortuna Il resto della regione Che invece Dovrebbe spingere Ma non ce la fa Perché Si è generalizzato tutto Quando si parla di Marche Si parla di terremoto E quindi come se fossimo Tutti terremotati Ok Questa è la situazione Ci sono due pagine Su questo argomento Noi ci fermiamo qui Stasera c'è il telegiornale Occhio alla notizia Vi ricordo che c'è anche La nostra applicazione Che può essere utile Anche per le vostre segnalazioni Sempre per noi Molto importanti L'applicazione si scarica Sugli store Di Apple E di Android Google Play Quindi se volete È gratuita Cercate a occhio alla notizia Scaricatela E cominciate a dargli un'occhiata Poi potete mandarci Tutte le vostre segnalazioni Per ora mi fermo qui Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti